Quante volte hai pensato, se effettivamente l'hai pensato, ma se io non avessi preso quella trave, se io non mi fossi trovato lì in mezzo, magari Carlo sarebbe ancora vivo? No, sì, questa cosa qua la penso quasi tutti i giorni perché è stata una cosa molto grande. Il fatto che sia morto Carlo, questo qua, è stata una cosa che secondo me non doveva succedere perché lì ha un voluto che doveva succedere un morto. Però la cosa della trave, sì, non so se in quel momento lì l'ho presa, ma non è che l'ho presa per fare tante cose di dilinquenza, l'ho presa come ho sempre preso delle pietre che l'ho tirata. Lì la trave, ora come ora, magari sono bastati dieci anni che ho scoperto i bambini e ho cambiato un po' delle cose, magari direi, magari ci avrei pensato due volte in quelle questione, però dieci anni fa a vedere delle cose che non dovevano succedere, essere attaccati dalle forze di ordine che non dovevano essere attaccati, tutta quella cosa ha fatto questa cosa che poi è degenerata. Sì, in effetti, non lo so se lo rifarei, però in quel momento lì è stata una cosa distintiva di prendere una cosa e tirarla contro le forze dell'ordine, ma proprio per sfogo, più che altro, non per un attacco, dire poi è successo il fattaccio lì, però io tutti i giorni ci penso, cioè per me è una cosa che non potremmo andare via, cioè c'è i bambini, non ci penso, vado, lavora, però nella mia mente ci sarà sempre quel fatto lì. Carlo io lo conoscevo, diciamo conoscevo perché avevo un locale, avevo un bar e allora lui praticamente ogni tanto veniva a bere nel mio locale, a farci le serate, però l'ho conosciuto così tramite il mio locale, se non avesse aperto il bar io magari Carlo non l'avrei conosciuto. Quindi non eravate andati insieme nemmeno alla manifestazione, vi siete solo trovati? Assolutamente sì, perché io alla mattina ero a Cavi di Lavagna al mare con mio fratello, un mio amico, quello che era il socio del mio bar e la mia compagna, e poi da Cavi di Lavagna verso l'una, così abbiamo deciso che eravamo già d'accordo per venire a fare la manifestazione, siamo venuti giù al Carline e da Cavi di Lavagna direttamente. Durante il tragitto poi è successo, perché noi chiaramente camminevamo, c'era la musica, tutti credevamo, scherzevamo, poi a un certo punto la campagna di mio fratello ha chiamato, che era a Cavi di Lavagna, lei guardava il primo canale in diretta, e ci diceva, ma siete state bene, vi sta succedendo qualcosa? Perché cosa sta succedendo? Questa è un tranquillo, ma no, perché in via Canevari c'è già del casino. Allora appena detto così, noi alzavamo del fumo in parallelo da via Canevari, dopo cinque minuti è scoppiato il film in mondo, ha avviato le madri che poi ha fatto la carica da via Evrea e da lì è iniziato poi tutto. Come hai fatto, diciamo, a fare pace, posto che tu l'abbia fatta con quella situazione, con quel 20 luglio di dieci anni fa? Pace l'ho fatta con me stesso, cioè io tutti i giorni che mi alzo, ce l'ho sempre, ci penso, però sono uno che non tengo rimorso, cioè nel senso per me c'è tipo, dovrebbe, e spero che, cioè, c'ho anche del rimorso perché non è andato tutto come doveva andare, è per quello che sono ancora un po', perché se fosse andato tutto come doveva andare, allora magari si vive meglio, però qua è andato tutto all'incontrario, c'è gente che doveva essere almeno indagata, sono stati promossi, cioè tutto questo non ti fa vivere bene, e quindi non è che puoi accantonarla così, però si cerca di fare il possibile. E i tuoi figli come la racconterai? Eh, ci sarà un po' di tempo, gliela racconterò pian piano, cioè, perché anche ora, quando ero con mio figlio, ho detto, guarda, devo andare a fare un, ma perché questa cosa è, cosa è successo, cosa è successo dieci anni fa, perché lui più, però ancora è piccolino, non so ancora più, però poi gli racconterò le cose come, con calma, come devono essere, gliele racconterò piano piano, come si deve, gli spiegherò come sono stati i fatti, che papà è stato in una manifestazione pacifica, che però poi a un certo punto è degenerato, però pian piano si diranno le cose. Cosa ti aspetti da questo diecennale? Sarai in piazza, ci porterai anche i tuoi figli? Guarda, io tutti gli anni, da quando, dal 2001 al 2010, tutti gli anni ci sono sempre andato, prima non avevo i figli, poi ci portavo sempre i miei figli, e ci li porterò sempre, anche quest'anno ci andrò. Spero che sia una manifestazione molto, molto, molto più grossa, perché io sinceramente tutti gli anni che sono andato è sempre stata una manifestazione scemata, nel senso, il primo anno 10.000, 100.000, il terzo anno 10.000, il quarto anno, gli ultimi due o tre anni eravamo tipo dieci gatti, che mi dispiace dirlo, però eravamo pochissimi in mezzo alla piazza, quindi c'è la gente, spero che non... che sì, ora sicuramente c'è la gente perché è il decennale, e quello magari farà forza la gente a tornare, però spero che dopo il decennale, anche l'undicesimo, l'undicesimo, ci sia sempre tanta gente che non ritorni come prima, che dopo il decennale allora sia finito tutto. Secondo me ogni anno dovremo andare tantissimi in piazza perché è sempre un ricordo che dovremmo ricordare. Come ha cambiato in questo senso, anche rispetto a quello che è successo, il tuo impegno politico? Il impegno politico è sempre lo stesso, perché io non facevo parte prima né nei centri sociali né politicamente, io sono sempre stato un antifascista perché mio nonno è stato il campo di concentramento, andò sempre a votare per l'antifascista, per il comunismo, però la mia politica è sempre... cioè non ho mai fatto cose di piazza, quindi il mio è sempre andare avanti come è sempre fatto. Un ragazzo è morto, hai subito un processo, anche per quelle che sono le tue radici antifasciste, pensi che ne valesse la pena, lo rifaresti, torneresti in piazza un'altra volta? Tornare in piazza sicuramente, perché poi più si va avanti è più anche il governo che ti porta ad andare in piazza, perché guarda, anche i precari che vanno in piazza e vengono picchiati, secondo me i precari che vanno in piazza non sono mica tutti i black bloc, cioè non ce ne sarà stato uno, black bloc pure, sono scesi in piazza perché ormai il suo governo ti porta, ci sono i tagli, non c'è più lavoro, sono precari, cioè io ho 40 anni, non sono un precario, sono proprio un disoccupato e che lavoro... e quindi più si va avanti più ormai, cioè si spera che tra due anni cada il governo, e chi avrà il governo spero che andrà verso i giovani, verso i studenti, verso un po' verso la gente, diciamo, che non facciano come questi qua, che pensano solo alle loro sedie, alle loro poltrone e basta. Grazie.